In arabo abbiamo femmine e maschio, quindi diciamo surirtu bidiqa iki significa sto parlando con una femmine surirtu bidiqa iki significa sto parlando con un maschio Un corso laboratoriale di lingua araba con l'obiettivo di abbattere le barriere linguistiche supportare lo spirito di condivisione e integrazione all'interno di spazi comuni di confronto e scambio per favorire la conoscenza reciproca oltre che l'apprendimento della lingua straniera Area 51, il centro diurno comunale per il contrasto alla povertà estrema di Corso Italia al quartiere Libertà di Bari apre le sue porte a tutti i cittadini che vogliono avvicinarsi all'apprendimento della lingua con un corso tenuto ogni lunedì da esperti del settore L'iniziativa è finanziata dall'assessorato al welfare e gestita dalla cooperativa Caps Il corso sull'arabo ce lo siamo immaginato dalla nostra esperienza perché noi da tempo facciamo corsi di italiano e di inglese e li abbiamo sempre immaginati in una maniera laboratoriale per cui oltre alle skills quelle proprio linguistiche ci sono anche impariamo la lingua attraverso canzoni, attraverso poesie, attraverso messe in scena cioè una forma laboratoriale di imparare la lingua e noi lo chiamiamo lingua da sopravvivenza che consente alle persone non solo di sapere la grammatica ma anche di sapersi muovere nel mondo è una Carla ok